Caro fratello o cara sorella, tu quanto tempo dedichi alla preghiera? Preghi con costanza? Preghi con intensità? Preghi col cuore? Se non sarai unito a Dio con la preghiera, la natura umana avrà il sopravvento su di te. Quanti per aver abbandonato l'orazione, dopo aver posto mano all'aratro, si sono voltati indietro? Senza la preghiera, tu non potrai ottenere i mezzi necessari per la salvezza. Spegni le fiamme delle tue cattive passioni con le lacrime della preghiera. Se non vuoi cadere nelle tue colpe, aggrappati alla salda colonna della preghiera e della meditazione. Non illuderti di far molto profitto nella tua vita spirituale e di piacere a Dio se non sarai un'anima di orazione e di mortificazione. Confida più nell'orazione che nella tua accortezza. Se vuoi arrivare alla luce, la preghiera è più possente della ragione. La preghiera è il respiro dell'anima, fatta con attenzione e affetto. Questa è molto gradita a Dio. Prattica la meditazione e l'orazione se vuoi avere la forza di servire il Signore. Finché preghi, non smarisci mai la strada della tua perfezione, anche se, tra cadute e riprese, camminerai a piccoli passi. Abbi fiducia nel valore della preghiera. Gesù, che è la Somma Verità, ha promesso. Qualunque cosa chiederete con la preghiera, abbiate fede di ottenerla e lotterete. Ricordati che Gesù promettendo si è fatto debitore. Ciò che non hai potuto ricevere subito per la tua debolezza, lo potrai ricevere in seguito con la tua perseveranza. Se vuoi che la tua preghiera non sia come quella dei pagani, interponi la mediazione di Gesù che ti dà la certezza di essere esaudito. La preghiera è per la tua anima, ciò che la pioggia è per la terra. Il tempo che impieghi nella preghiera, Dio te lo restituirà con altre tante benedizioni nelle tue opere. Per innalzarti, devi metterti in ginocchio. Non sei mai tanto grande come quando stai in ginocchio davanti a Dio e lo preghi. La preghiera è un colloquio del Figlio di Dio con il Suo Padre Celeste. E' la chiave dei tesori di Dio. La preghiera ti fa gustare il cielo. Essa dilatta il tuo cuore e lo rende capace di amare Dio. Il più bel compito dell'uomo è quello di pregare e di amare. Quando preghi, parli con Dio. La preghiera è divina, perché anche il Signore ha pregato. La preghiera, quando è autentica, funge da messaggera davanti a Dio. E' comunione intima con Lui. E' luce dell'anima. Cibo celeste che la sazia e la trasforma in tempio della presenza di Dio. Parla a Dio con preghiere nascoste, ma con fede manifesta. Pregando, tu ti rendi degno di ricevere il dono che Dio ha disposto di darti. La preghiera è la potenza dell'uomo e la debolezza di Dio. E' l'unione di chi non è con colui che è. Tu non preghi in funzione di ciò che provi, ma per rendere gloria a Dio e manifestargli il tuo amore. Dio è sempre degno di essere amato, sia che ti trovi nell'aredità o sei consolato. Prega. Prega ogni giorno. Prega con amore ed umiltà. E Dio ti risponderà. Prega. 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 Prega.